Cominciamo dal fatto che i virus che infettano l'uomo, molti di questi, arrivano dagli animali, anche quelli che non vi immaginereste mai, tipo il morbillo. Questo coronavirus 2019 è il terzo coronavirus in meno di 20 anni e è tantissimo. Allora, di questo coronavirus che cosa sappiamo? Sappiamo che è un virus che arriva da un pipistrello, ma questo ci arrivate pure da soli. L'ospite intermedio è stato detto di tutto, da rana, pesce serpente, sarchiapone, non si sa ancora qual è l'ospite intermedio. Io mi sentirei di escludere animali a sangue freddo, ma insomma è irrilevante. Queste sono cose da virologi che proprio alle persone normali non gli devono interessare per niente. Quello invece che deve interessare alle persone normali è che questo virus, dopo aver fatto il primo salto di specie, quindi di essere passato da un animale che poteva essere pipistrello oppure un altro, diciamo, altro ospite, è passato all'uomo. Da questo uomo, numero uno, c'è stato un primo, un primo, diciamo, giro di amplificazione dell'infezione e poi mano a mano che il virus passa da uomo a uomo a uomo a uomo a uomo a uomo, è come uno che ha 37,5% che vuole mettere il piede dentro una scarpa 37%. Alla fine ce la metti e dai, dai, ce la metti e quando ce l'hai messa poi cammini e corri e questo è esattamente quello che fa il virus. Cioè lui ha un recettore 37,5% che va bene per pipistrello. Il recettore dell'uomo è diverso, quindi non gli c'entra tanto bene, però una volta che è entrato poi comincia a galoppare. Il vaccino ci vorrà sei mesi, un anno, sei mesi per svilupparlo, fare le, diciamo, le prove di laboratorio, metterlo a punto e poi bisognerà verificare se funziona e poi bisognerà testarlo, quindi, insomma, e poi produrlo in grandi quantità e poi distribuirlo. Terapia con le malattie virali, insomma, si fa un po' fatica, però vorrei, allora, rassicurarvi nel senso che i coronavirus nella stragrande maggioranza dei casi in tutti gli animali, compreso l'uomo, danno delle forme respiratorie lievi o delle diarree. Nell'uomo un quarto dei raffreddori sono causati da coronavirus. Non esiste in natura, diciamo, coronavirus che danno delle infezioni respiratorie gravissime, gravi, né nel pollo, né nel gatto, né nel cane, né nel maiale. Perché bisogna vaccinarsi per l'influenza? Per tre motivi. Primo motivo, anche a proposito di coronavirus, perché bisogna vaccinarsi per l'influenza? Perché? Prima di tutto, se ti vaccini per l'influenza, è meno probabile che sviluppi l'influenza. Quindi, se non sviluppi l'influenza, non confondi il medico? Perché se tu dici, scusi, ma lei c'ha l'influenza? Ma io sono vaccinato. Allora pensi, forse c'è il coronavirus. Invece, se tu vai lì col moccolo e dici, ma scusi, ma lei è vaccinato? No, allora lei si è preso l'influenza. Invece magari c'è il coronavirus. Quindi, prima di tutto per questo. Secondo poi, perché la coinfezione fra coronavirus e influenza è molto più grave che l'infezione con uno solo. Due spedge che è one, quindi ti viene di sicuro la forma grave se te li prendi tutti e due insieme. E terzo, per non ingorgare le strutture ospedaliere, perché ogni anno vengono ricoverate non so quante mila persone. E dobbiamo invece ragionare con un approccio nuovo, perché queste cose continueranno a succedere. E il danno più grande che faranno, insomma, se i dati sulla mortalità rimangono questi, sarà il danno economico. Ho paura anche, e questa forse è la paura più grossa, visto che ci sono passata, ho paura della perdita di credibilità delle istituzioni. Perché questa è l'ultima cosa, la cosa che proprio non ci possiamo permettere. Insomma, non ve lo devo dire io, nei momenti di emergenza bisogna obbedire e fare quello che dicono le autorità. Non c'è né tempo né spazio per l'improvvisazione e per, diciamo, il singolo. Se noi continuiamo a invadere determinati ambienti e a, diciamo, creare delle interconnessioni innaturali, perché grandi concentrazioni di persone non dovrebbero stare dove stanno grandi concentrazioni di animali selvatici, è ovvio che questo tipo di problemi dovremmo farci conti molto più spesso. Quindi non esageriamo, usiamo il cervello e ricordiamoci che ognuno di noi, cioè che questo è un problema di salute pubblica, non un problema di salute del singolo e quindi la salute pubblica si ottiene soltanto se tutti convergono verso lo stesso obiettivo.